Olaf's Frozen Adventure Al castello di Arendelle erano tutti pronti per festeggiare le vacanze invernali. Anche Olaf che salto fuori da una torta gridando Sorpresa! Elsa, Anna e Olaf aiutarono Christophe a suonare le campane e invitarono tutti i suttiti a partecipare alla loro festa. Gli abitanti di Arendelle applaudirono felici ma, dopo aver ringraziato Elsa e Anna, si incamminarono verso l'uscita del castello in tutta fretta. Dove andate? chiese Elsa a una coppia di anziani. Dobbiamo tornare dalla nostra famiglia, rispose l'uomo. Abbiamo delle tradizioni da rispettare. E noi che tradizioni abbiamo? chiese Anna quando rientrano al castello. Non me lo ricordo, rispose Elsa. È tanto tempo che non festeggiamo insieme. Olaf allora chiamò Sven. Dobbiamo trovare delle tradizioni per Elsa e Anna, disse. Così i due amici decisero di andare a chiedere aiuto agli abitanti di Arendelle. Ogni famiglia raccontò a Olaf che cosa faceva per le feste. Alcune cucinavano dolci, altre preparavano decorazioni. Olaf e Sven ripartirono con la slitta piena di doni. Sulla strada del ritorno si fermarono a fare visita ad un'ultima famiglia che festeggiava riunita nella sauna. E Olaf ricevette in dono una sauna portatile. Ma mentre Olaf e Sven rientravano al castello, la sauna portatile prese fuoco e la slitta precipitò sul fondo di un burrone profondissimo. Tutti i doni andarono distrutti e Olaf volò fino al lato opposto del burrone. Ora non sapeva più come tornare da Sven. Intanto Elsa e Anna erano salite nelle soffitte del castello per cercare i ricordi delle loro vecchie tradizioni. Elsa aprì un grosso baule e trovò una piccola scatola di legno. «Guarda!» disse ad Anna emozionata. «Dentro c'erano alcuni dei loro ricordi più cari». Poco dopo rientrò Sven. Era molto agitato, ma riuscì lo stesso a spiegare a Elsa e Anna che Olaf era in pericolo. Elsa e Anna decisero di andare subito a cercare il pupazzo di neve e alla spedizione si unirono anche Christophe, Sven e tutti gli abitanti di Arendelle. Alla fine lo trovarono nella foresta. «Mi dispiace di avervi fatto preoccupare!» disse Olaf. «Volevo che anche voi avesse delle tradizioni di famiglia». Anna allora gli mostrò la scatola di legno che Elsa aveva preso in soffitta. La scatola conteneva i disegni di Olaf che Anna aveva fatto da piccola. «Sei tu la nostra tradizione!» gli spiegò la ragazza. Quindi Elsa decise di sfruttare i suoi poteri per fare una sorpresa a Olaf e a tutti gli abitanti di Arendelle. Creò un magnifico albero di ghiaccio. Rimasero tutti senza parole e Olaf cominciò subito a saltare per la gioia. Quella notte ci fu una grande festa. Olaf si divertì un mondo e scoprì che le feste erano fantastiche perché lo facevano sentire più vicino alle persone care. Fine